Niente Repubblica delle Banane, gli azionisti di Chiquita hanno detto no alla fusione con la rivale Fife, la quale avrebbe dato vita ad un colosso globale con un giro di affari da oltre 3 miliardi di euro. A metterci lo zampino è stato il pretendente alla mano di Chiquita, la coppia formata dai gruppi brasiliani Cutral e Safra, la quale giovedì, il giorno prima del voto, aveva alzato la sua offerta a 14 dollari e mezzo per azione. Il marchio americano aveva promesso negoziati solo in caso di rifiuto dell'unione con gli irlandesi e così è stato. Il titolo Chiquita ha festeggiato con un guadagno di oltre 3 punti percentuali.